Sono successe tante cose, per prima cosa sicuramente ho ritrovato la fiducia in me stessa, che assolutamente l'avevo persa del tutto, non credevo più in me stessa. A Natale non credevo più che sarei riuscita a portare risultati come li ho portati negli anni precedenti e soprattutto non ci credevo più in quest'anno. Invece con l'aiuto dei miei allenatori, il mio ski man, il mio staff con cui sto molto bene e poi soprattutto anche di Roberto Re che ho conosciuto il primo gennaio quest'anno, sono riuscita davvero poi alla fine a fare un buon lavoro mentale e alla fin fine era solo quello che mancava. Quando avevo bisogno di aiuto cercavo l'aiuto da loro, devo dire che però poi quest'anno a Natale davvero non sapevo più dove girarmi, ho avuto la grande fortuna di poter conoscere Roberto Re e davvero già da subito mi ha ispirato tanta fiducia. Devo dire davvero che mi ha dato un grosso aiuto soprattutto a trovare la serenità in me stessa e come dicevo prima la fiducia in me stessa che poi è importantissima. Uno si allena tutto l'anno, fa grossi sacrifici fisici, guarda ogni minimo particolare sul materiale, invece magari trascura un po' la mente che può essere il fattore più importante in una gara.